what's going on electric grillers oggi prepariamo gli spiedini di manzo in salsa teriyaki con l'aggiunta della salsa chimichurro ecco qua il manzo tagliato a cubetti di 3 cm di lato circa pronto per essere infilato sugli spiedini ha passato la notte in marinatura nella salsa teriyaki io uso questi stecchini per gli spiedini perché evitano che la carne si giri quando si gira lo spiedino e questa è la salsa chimichurri ora andremo a fare gli spiedini e poi li asciugheremo dalla salsa chimichurri in modo che in cottura non si lessino ma si cuociano per bene lascio un po di spazio tra un pezzo di carne e l'altra per lasciare che si cuocia su tutti i lati quando li metterò sulla griglia ed ecco gli spiedini montati procedo ad asciugare come dicevo prima per evitare che la carne si lessi nella salsa chimichurri c'è dell'olio extravergine di oliva del succo di limone del peperoncino di cayenne sale pepe nero e altre spezie che troverete nella descrizione del video per emozionare il tutto ho messo anche un cucchiaino di senape che non cambia il sapore ma tiene insieme la parte acida e la parte grassa siamo pronti a mettere gli spiedini sulla griglia oggi useremo la piastra e in sovrapprezzo ci mettiamo anche un paio di salsicce toscana come di oggi una cottura diretta ma sono pronto con gli accessori passare in diretta se dovesse essere necessario prolungare la cottura senza espionare gli schierini ho scostato gli schierini sulla griglia aperta dalla piastra perché stavano facendo un po' troppa acqua e mi sembrava spesso l'alessandro quindi per le salsicce la piastra è alla grande eccoci qua gli schierini sono arrivati in tavola assieme alle salsicce ora gli sfideremo dei supporti e sfiliamo i pezzettini di manizzo dallo schierino e assaggiamone uno sia da solo che con la salsa ciniciolo vedete che è cotto forse anche un po' troppo ci sente la salsa degli acchi buona preso un buon sapore dolce è buono arriva anche il contorno di zucchine assaggiamo il secondo con la salsa ciniciurri di cui alcune composizioni dovrete nel link molto buona l'acidità del limone e il piccante sono molto bene col dolce della salsa teriyaki molto buona ringrazio di essere rimasti con me fino a questo punto io davanti a mangiarmi il manzo in salsa teriyaki e ciniciurri ci vediamo al prossimo video ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina per le notifiche dei nuovi contenuti ciao e grazie ma anche la salsiccia c'è il suo perché